Dopo la prima notifica inviata dall'ANAS dove si annunciava il completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto terminale della Teramo Mare direzione Giulianova, con la chiusura dell'intero percorso compreso tra lo svincolo di Bellante e l'innesto con la Stata Lottanta, a partire dalle ore 22 di questa sera fino alle 6 di lunedì, è arrivata una nuova notifica che posticipa l'avvio degli interventi. Al fine di poter completare le lavorazioni, si legge nella nota inviata dall'ANAS nel tratto terminale della SS80, anche in vista dell'imminente esodo estivo, dalle 22 del 4 luglio fino alle 6 del 6 luglio, la carreggiata in direzione mare sarà interdetta al traffico. Una decisione è quella di traslare gli interventi arrivata anche dopo la richiesta della provincia di Teramo, di posticipare i giorni dei lavori non più nel fine settimana, dove il flusso in direzione mare è corposo, ma nei giorni a seguire. Hanno proprio ridotto al minimo le difficoltà e i disagi, perché praticamente è chiuso solamente il martedì, per concludere l'ultimo tratto. Io ringrazio l'ANAS per l'intervento comune di lavoro che sta facendo sulla nostra provincia. Oggi è anche vero, dobbiamo dire, io mi ricordo i nostri nonni, prima erano pazienti, aspettavano, oggi ci lamentiamo tanto, però è il momento che corre, dopo due tre anni di difficoltà tra pandemia e guerre, oggi ce la prendiamo un po' con tutti. Però ecco, io ringrazio l'ANAS per l'importante lavoro che sta facendo e il risultato finale è che sarà chiuso solamente il martedì, perché se contiamo lunedì sera alle 10 e mercoledì mattina alle 7 è l'unico disagio il martedì. Ricordiamo che la chiusura sarà abbellante con un'uscita obbligatoria per chi va verso Giulianova. La cosa positiva quindi non ci saranno disagi per i tanti turisti che stanno affollando la costa Teramana? Ecco, sabato e domenica saremo nella tranquillità perché si chiuderà lunedì sera alle 10. Questo è il messaggio, deve arrivare diritto sabato e domenica avremo, ecco, zero disagi.